ciao buonasera a tutti aumentate sempre di più e questo mi fa piacere perché vuol dire che il mio contributo è raccolto da molti grazie veramente queste sono le immagini che ho preso da un sito che dopo vi descrivo i bambini dovranno metterle insieme attraverso questo incastro in feltro trovando gli abbinamenti giusti adesso vi faccio vedere il sito che poi ve lo cito nella descrizione del video ecco qua il sito è ricchissimo di libricini che si possono stampare sia a colori che in bianco e nero io ho utilizzato alcune immagini di questi libri relativi all'infanzia le ho stampate in bianco e nero ho scelto per esempio questo libriscino è un pdf come tutti gli altri che si può comodamente scaricare e poi stampare sul sito c'è tutto il vangelo anzi tutta la bibbia buona navigazione buon gioco a voi e i vostri bambini ciao